Buongiorno a tutti e benvenuti da Romano Auto. Oggi siamo in compagnia della Mercedes GLA 220 in versione premium. Occhio alle immagini. La Mercedes GLA è un SUV medio dalle forme arrotondate e un tocco sportivo. Lo si nota soprattutto nel frontale che ricorda quello della berlina classe A. Il motore è un 2000 diesel da 190 cavalli abbinato ad un cambio automatico ad otto rapporti. Gli interni mantengono un aspetto molto futuristico, classico di Mercedes e i sedili sono avvolgenti in tessuto pelle e alcantare. L'abitacolo della GLA è ricco di tecnologia e funzionalità e la plancia è dotata di un grande display orizzontale che ci permette il controllo totale di ogni parametro della vettura. Gli spazi interni sono molto generosi ed il baule posteriore riesce ad avere una capienza di ben 450 litri. Venite a scoprirla qui in concessionaria. Siamo in via Garibaldi, Polenatrocchia, Napoli. Romano Auto è la scelta giusta.